Devo fare l'appello, posso farlo? Prego Attanasio Presente Avanzato Presente Mussein No, Musain Ma bravo, quello è Pachissana No, no, babbo, non lo sa nessuna cosa È venerdì E già lo sai La morbidezza accoglierai Su Youtube e su Spotify Basta che mi play Cashmere Podcast Podcast morbidissimo Benvenuti ad una nuova puntata di Cashmere Un podcast morbidissimo Fa sempre ridere Non smetterà mai di far ridere Bellissimo maglione oggi Torniamo alle basi Sì Perché lo dico Perché tu non puoi dire uguale di me Io ho tirato fuori un maglione Carca puttana Cioè quello io lo uso per strofinare Il carburatore del motorino Se facessi cose del genere Lo userei per pulire le candele Cos'è? Che cos'è questa macchina? L'ho trovato al fondo all'armadio Perché i miei golf erano spariti In un gioco di prestigio E sono tornati Ma stamattina mi sono scordato Quindi li ho preso a casa mia Ed era un troviario Queste sono quelle cose che Alice e tu Questi sono i maglioni Che si mettono Sai nella cassa della batteria Per evitare di O sul fondo della lettiera Del gatto anche E invece io li vesto Senza paura Non puzza Quindi sono un paio di macchie Una bottarella di tintoria Gli avrei data E quante bottarelle di tintoria Martedì prossimo Siamo stati ospiti Da Daniele Tinti E Stefano Raposi Seguite la puntata E ciao ciao a tutti Ciao Carmelo Come stai? Bene bene Tutto bene? Ma sì dai Sì Sembra di sì Rispetto al solito Preferisco quando registriamo Di pomeriggio Quindi sì Ok È vero Che il nostro gentile pubblico Non sa che stiamo Registrando di pomeriggio Taier tutto bene? Potreste a me io Come al solito Un giorno arriverà La risposta dirà Sto da Dio ragazzi Sto da Dio Oggi mi sento bene È una giornata felice Non aspettavo altro Che venire qui A registrare con voi Che mi avete migliorato Sensibilmente la vita Che è un po' quello Che noi ci aspetteremmo Che tu dicessi Quando mi arriverà il bonifico Come quello là Di facile.it Cento milioni Accadrà questa cosa Prima devi inventare Facile.it Taier Bi pazienza Sarà un rigatto a voi Non faccio più cash È la famosa director's cut Sì ma anche se banalmente Pubblichi le parti Che noi tagliamo Abbiamo salutato prima Gli uomini Perché gli uomini Anche se c'è stato Un piccolo intervento Femminile Perché questa è la settimana È la settimana Del maschio Che puoi dire Quello che vuoi Settimana del maschio italiano Esatto Salutiamo intanto Cecilia e Alice E proprio a loro Ciao 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 a tutti Ciao Cecilia e Alice E proprio a loro Poniamo una domanda Spiritosa Simpatica E allegra Come vi siete trovate Rispetto alle parole Del conduttore Del grande fratello VIP Alfonso Signorini Rispetto a Così questa gratuita Come definirla Uscita Una posizione Assolutamente pacifica Che lui ha deciso Di assumere Su un tema Non divisivo Cioè l'aborto Senza che nessuno Gli avesse chiesto Per altre Partendo dal dramma Della cagnetta Di Giucas Casella La quale potrebbe essere Stata ingravidata Da un cane Di razza E di taglia più grande E Giucas Casella Dice Ma insomma Sì per carità Però magari Poi questa cagnetta Mi abortirà Perché quell'altro cane È troppo grande A volte in natura succede Si parla di pastore mare in mano Un pastore mare in mano Contro un chihuahua Contro un jack rass È tipo il tuo maglione Se lo appallotti Pottoli è il cane Di Giucas Casella Allora l'ammazzo Non c'è a bordo E infatti Ed è l'espressione Io non credevo neanche Fosse possibile Ma infatti muore La cagnetta Ha provato più volte A dirgli Quando te lo dico io Quando te lo dico io Esci E invece Lui è rimasto Proprio come Giucas Casella Succedeva quella cosa Negli anni 90 Che non si riuscivano A separare le mani Uguale il cane E la cagnetta Tutte queste cose A cui stiamo facendo riferimento È successo Nella puntata di lunedì Il grande fratello Vipo Appunto Alfonso Signorini Dopo questa situazione Purtroppo che succede I cagnetti Ha pensato bene di dire Ha pensato bene di dire Noi siamo contro Ogni tipo di aborto Va bene Anche dei cani Siamo completamente Contrari all'aborto Pubblicità Pubblicità Ragazzi Due parole Su questa Io lascio Alice Perché Insomma È un pochino Più interna Appunto Esatto Vai Libera come l'aria No Io dico solo che Che l'azienda Non si esprime Che stasera Che c'è la puntata Del venerdì Scopriremo Quale sarà La risposta ufficiale È che comunque Ogni cagnetto È figlio di Dio Perché Il sottotesto È questo Che ogni creatura È comunque Figlia di Dio Ed è bello Che lo abbia deciso Alfonso Signorini Sono contenta Che sia un uomo Di quell'età E insomma Anche di quell'orientamento Sessuale A dire cosa Dobbiamo fare Noi con il nostro Famoso utero Un classico maschio Cisgender Eterosessuale Come ha detto Martina Caduzzi Giustamente Su Instagram Un altro maschio Cis di Alfonso Direi che non ce ne sono Esatto Più caspiterina No è stato un momento Di bruttissima televisione Più che altro Nessuno ha capito Perché Cioè Qual era il motivo Quanto era gratuito Sai chi l'ha capito Chi rischia di capirlo Se io fossi negli sponsor Gli sponsor Che mi sembra Che mi sembra Lo abbiano capito Molto bene E ho trovato agghiacciante Anche le due opinioniste Una è la Sonia Burganelli La donna Bonolis E l'altra è Adriana Burganelli Sì la donna Magalli Io la chiamo Ma è Adriana Ah Devo Beh no Non hanno mai avuto Una relazione Si odiano a morsi Esatto Che hanno detto Esatto 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 È certo Secondo me non si sono neanche molto Resi conto della situazione Probabilmente è stato Sì Un pensiero di Signorini Che ha voluto Non si sa perché Condividere con noi Un pensiero Insomma Molto discutibile Un bel pensiero Un bel pensiero Molto progressista Riesci a immaginarti Quella volta In cui Alfonso Signorini È dovuto correre In ospedale di notte Perché aveva paura Ha dovuto chiedere la pillola Come no Con suo fidanzato Sì Certo Certo Ci serve la pillola Mi è venuto dentro Il medico Eh Ci ha pensato Beh Comunque ci ha riflettuto tanto Ha vissuto sul proprio corpo Il dramma dell'aborto Insomma E quindi giustamente Che dire Ha espresso una posizione Personale Personalissima Di vita vissuta Tu vorrei che può fare Chiunque Ci mancherebbe altro Ma Meno se Meno se ti ascoltano Milioni di persone Quante persone lo vedono Il Grande Fratello Quest'anno 3 milioni circa 3 milioni Io ho sentito 30 30 milioni No 3 milioni 3 milioni 3 milioni di persone No Fa effetto Una presa di posizione Del genere in programma Ma io mi chiedo Ci è o ci fa Cioè Il maestro Signorini Sa che quando dice Questa cosa Cioè Lui trolla Trolla Per poi vedere Gli articoli Di Davide Mangio Non l'ha fatto per gli articoli Lo fa perché è un uomo Molto potente Non ci ha neanche pensato E ha detto quello che Realmente crede Posso dire Alfonso Signorini Seconda persona più cattiva In Italia dopo Luca Morisi Cioè siamo agli stessi livelli Cioè siamo agli stessi livelli di cazziveria Una persona che mette le mani Nella merda Quotidianamente Facendo quei programmi Proprio fondando Anche proprio Un sistema Su quella cosa lì È una persona cattiva Secondo me Si potrà dire Sarà impegnato in cause civili Farà quello che cazzo gli pare Ma quando la tua vita Certo Noi difendiamo la famiglia in Texas Va bene È quello che noi difendiamo Quando la tua vita È creare quei contenuti Secondo me Sei una persona malvagia Posso dire una cosa Che forse non avete pensato E riguarda proprio il tema Wow Ehi piccola Che non abbiamo neanche pensato No no che poi mi dicono che sono antipatica No che Alfonso Signorini In realtà Mi nasce professore Certo Lui è laureato in filologia medievale Quindi in realtà Ha una materia estremamente In che liceo insegnava? Al cattolicesimo Cara la mia saputella No questo non lo so A Leone decimo terzo Ah quindi in una scuola cattolica E lui disse in un'intervista Che quando leggeva un cognome famoso Di uno studente O di una studentessa Diceva niente tema Così dice lui Ricordo bene Che lo diceva in un'intervista Diceva raccontami tutto Della tua famiglia Quindi una vera zabettina Che vuole sapere Infatti ma ne parleremo Un giorno ti ricatterò tesoro Stai a te Ricatterò te e la tua famiglia Tra l'altro non ha per niente Il piglio del professore antipatico No no Madonna mia Pensa di essere interrogati Tutti dieci Oggi mi interroga i signorini Porco due Anzi a un quarta ora Ci aveva i signorini Allora Edoardo Parlami delle Enclosures Mille Possiamo vedere che vi è Enclosures Quando Che bravo Che bravo Che bravo Adesso però vorrei che venisse anche Giovanna Vieni Giovanna Interrogata Allora Allora Giovanna Parlami di quello che vuoi Tanto ti do due Che sei una puttana Sei una brutta troiaccia Professore Mi risulta che lei Applichi due pesi e due misure A seconda del sesso Della persona che sta parlando Vai ad abortire fuori Da questa classe Non mi interessi Sguardrinaccia Professore Mio nonno è abbonato A tutte le sue riviste La prego Sia clemente Avresti una foto del nonno Madonna ragazzi E questa è una di quelle situazioni In cui non si dice Scherzo scherzo Ma anzi No 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 Vero vero E a proposito di omosessualità Secondo te Chi è che nella vita Dice di qualcun altro Uomo maschio Dice Sei un maschietto Chi lo dice? Se non sbaglio Questa parola Maschietto 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 Se io sento Facciamo finta Io chiedo a un babysitter Do una chance Ad un babysitter Di tenere i miei figli Per quattro ore Una sera Allora Qui abbiamo la femminuccia E il maschietto Come scusa? Come scusa? Perdonami Ma ti dico Finché lo dici Può scappare Stai parlando di bambini Ma se invece Non lo dici Ma lo scrivi E lo scrivi In un post Dove critichi La band più famosa In questo momento Del mondo Dicendo che vorresti Che si vestissero I maschietti Non so Che so Uno smoking Le signorine Con un bel abito Da cocktail Sai cosa sembri? Uno che si siede a tavola Con Morisi Signorini E che non aveva bisogno Di pronotare Il nostro amico Pillon Qua In mezzo Lo mettiamo in mezzo Tesoro Anzi no In mezzo Morisi Pillon all'altro Ai lati Quindi sembra un cazzo Due palle Perfetto È vero No però veramente Ha fatto un post Pillon Lamentandosi di come Si sono vestiti I maneskin Nello show Più eterosessuale Del mondo Cioè gli MTV World Music Awards Hanno vinto Best Rock Uno show Che abbiamo guardato L'altra sera in tv Ed è la fine Di MTV Non quella che conoscevamo Noi Quella che già si era Rigenerata tre volte È veramente orripilante Ah sì È brutto Io non l'ho visto Un show inguardabile Ma perché? Perché è noioso Una parodia Della parodia Di quello che era Una volta MTV Poi non so Io sembrava essere un vecchio Non conoscevo nessuno C'era molto I compagni I Coldplay I Foo Fighters C'è il Chris Martin C'è il Chris Martin Ma che bravo Si è fatto vecchio però Guarda Chris Martin Che belle cazzole Speed of Sound Me la fai la Speed of Sound C'è l'unico premio Che ho capito qualcosa Era l'hip hop È l'hip hop E il Kanye West L'Eminem L'Eminem No Come si è antiquato Che ha vinto lì No c'era il Drache C'era il Megan Thee Stallion Che però è una femmina Il Megan Thee Stallion Ah vedi un po' Ho rimasto C'era il Jason Darulo No c'era la Nicki Minaj La Nicki Minaj Quella che ha qui dietro Quel popò di È vero Quella roba là E c'era pure il Cardi B Che anche quella è una femmina Anche Ma che nomi scegliete Ma che nomi ci scegliono questa gente La B sta per Bernacchia Perché lei è di Vigolzone Come no E si chiama Cardinaletti Bernacchia Cardinaletti Bernacchia Gustava E quello era un po' lo show Che io guardavo tanto Volentieri Con tanta attesa Quando ero piccolo Era il momento più figo dell'anno Bellissimi C'era grande attesa Come votare Andare sul sito nel 99 Per votare Sì era Matrix Pieno Matrix Tu ti collegavi E votavi per l'Eminem Il Marshall Mothers Per la Spice Girls Ma come no Ma come no Per i Texas No mai Alt Citiamo Il nome della più grande Vento degli anni 90 Si mette a piangere in autostrada Tra l'altro ultimamente Nel mio iPod Shuffle L'ho inserito Cosa? Sì Succede davvero Il mio iPod Shuffle da 2 giga Hai detto Perché così ora Te lo vado a rompere Ma che vai a rompere Se ti prendo un iPhone Come le persone fanno Al 2011 Non voglio sentire Parare di apparecchi volgari Ho messo di Lene Marlin No 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 Molto più sofisticata Ah la seconda O la terza Adesso fra un po' Sitting down here Avrei messo I'm sitting down here No Se ti metti in metropolitana E qualcuno sente Dalle tue cuffie Sitting down here Pensate di essere finito In un loophole La signora Le fa Vogliamo abortire insieme Tesoro Scherzo Povero Pilon Povero Pilon Ha anche detto così Gli uomini arriveranno A dare i reggiseni Cosa che già è Cioè già esiste Ci sono uomini Con reggiseni Certo che sono liberi Di fare quello che voglio Grande Pilon Quando ci fai Questo coming out Pilon Dai Quando è Vogliamo fare il toto Coming out di Pilon Secondo me Quando viene fuori La fotaccia Il videaccio Quando viene fuori Corona Fabrizio Fabrizio Se ci ascolti C'è un lavoro per te È fuori È dentro Ormai non mi ricordo più Sta fuori Perfetto Proiettare nel cielo Lo stemma della Corona Sì 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 C'è il Corona segnale Poi torna lui Batman Con il suo fido aiutante Tair Certo A quel punto Fratello Corona Certo Fratellino Dai Vai al sistema Esatto E ci leviamo dal cazzo Pilon Lui è più sereno È libero Finalmente potrà esprimere Se stesso E finisce di fare leggi Veramente quelle Liberticide In senato E continuare a portare avanti Posizioni più medievali Della laurea di signorini Esatto Vabbè adesso abbiamo parlato Di questi grandi momenti D'attualità Diciamo Bacchettando anche un po' Come degli insegnanti Ma perché no? Per questi personaggi Perché sarà sempre Morbidissima La nostra mannaia Di cashmere Ma comunque è una mannaia E si abbatte Chiaro? E c'è un po' Di mancanza D'educazione Da questo punto di vista Sia fra chi Decisamente Soprattutto se poi Insomma l'educazione La fa Alfonso Signorini Forse è meglio Che la faccia Chi è Diciamo autorizzato A farla Esatto E se le famiglie Non è che ce le scegliamo Ognuno c'ha la sua E quello ci mancherebbe Poi una matrice E con una matrice Unitaria Per tutti i ragazzi Un sistema Che venga Aiutato Che aiuti Che si Che fa Ci siamo Intisi Torniamo a rimettere La scuola L'educazione civica L'educazione Al centro La scuola E 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 Cacciari Ci faccia vedere Il green pass Per cortesia Grazie 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 Sì Può aprire No Non devi aprire telegramma Devi aprire Per cortesia Quello perché va lo spazio torre Certo Certo E E Ecco Insomma La scuola italiana È messa un po' In Non è messa benissimo La scuola italiana La scuola che dovrebbe formare I virgulti Di questa nazione Sarà anche perché Forse I Professori Il ruolo Il professore L'insegnante Non è proprio Diciamo No Al centro dell'agenda politica Dei governi Appena appena mortificato Anche del rispetto Da parte delle persone Normalmente Sì Abbastanza È vero È vero Ma E quindi mi chiedo Non è che ci stiamo perdendo Alcuni grandi menti Che avrebbero insegnato Molto volentieri Per esempio Sarebbero stati dei grandi professori Edoardo Ferrario Sarebbe mai stato O ha mai desiderato Diventare un grande professore Allora Quando Al liceo Io pensavo Alla fine del liceo Pensavo poi di fare lettere Avevo iniziato a pensare Probabilmente farò l'insegnante Perché spesso Lo sbocco con lettere È quello Ovviamente pensavo Di fare un insegnante fico Cioè un insegnante Alla Robin Williams Nel Attimo Fuggente Ah sì Non pensavi Frustrato a 60 anni Che vuoi ammazzare i ragazzi Nine Una pera a settimana Come nelle conseguenze dell'amore Nella mia mente Io avevo Giacca di velluto a costa E finalmente portata bene Toppa Ai gomiti Io che salivo sul banco E facevo capitano Mio capitano Però Con i pezzi degli strokes Capito Cioè nella mia mente Avevo quell'immagine lì Quindi comunque pensavo Di fare il professore Molto fico Vent'anni dopo Vent'anni dopo Corriere della sera Il professore Ferrario E merito Già pubblicate cose Beccato In alcuni Diciamo Festicciole Con dei ragazzi Quindi libro Quindi Philip Roth Quindi Philip Roth Esattamente E con Io stavo cercando Di spiegarle Il tenso di Is this it Voi capite bene Che E non è che poi Ho fatto nulla di male Cioè Boh Ho letto l'ultimo libro Di Ferrari Cioè Troppo vero Come racconta Cioè Come fa l'amore A una ragazza 16 anni Nessuno Mi è toccato Quelle corde Cioè Boh Non so Per me Vabbè Che è un maschio C'è però Veramente bravissimo Mi è stato raccontato Da degli studenti Di 16 anni E no Insomma Non pensavo Di finire così Pensavo di fare Una carriera Da professore Più che dignitosa Poi andare diversamente E vabbè Tu hai mai pensato Di fare il professore? Allora Quando ho anche provato Di insegnare Due cazzate Legate al mondo scrittura E cose così Non sono capace Perché mi piace pensare Che non riesco A A A A raccontare Quello che vorrei Perché mi impappino da solo E quindi mi piace pensarmi Come uno che fa L'exio magistralis Ma non riesce Perché è sempre preso Dalla sua mente Artista Un vulcano Un cittadino Anche se Quando L'ho già detto questo Ma ci tengo a ripetirlo Quando vedi A Roberto Vecchioni A Milano Tirare fuori Delle banconote Piegate nelle tasche Senza portafoglio Bellissimo In cartoleria Pagato tipo Con 100 euro In pezzi da 50 50 e 20 Questi Guarda il professore Cosa arriva a fare Quindi queste figure Forse si possono anche unire Non lo so Ma comunque no Non ho mai voluto fare il professore Chi lo sa Ma avete dato ripetizioni Ad esempio quelle private Avetevi provato a aiutare qualcuno? Mai Non avrei mai saputo In cosa Ripetizioni di che? Scusa tu non hai dato ripetizioni A Valerio Trancalini Chitarra però Sì 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 No è vero Perché poi c'è stato anche il momento In cui ero convinto di fare musicista Pensavo quindi poi Insegnerò musica E io è vero Ho insegnato ad amici A suonare la chitarra Ho riprovato a farlo recentemente Con Tommaso Con mio fratello E tipo ho detto Madonna quanto non sono capace A insegnare musica Cioè c'era tipo Tommaso E mi dice Ti prego smettiamo questa cosa Me ne voglio andare via Non so perché ci hai provato Tantissime volte anche con me Anche con te Ma no raga Ma bisogna sapere insegnare Ma è difficilissimo Con Valerio Trancalini C'è stato quel momento Negli anni 2000 Quando lui Tum 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 Prova a sonare come as you are E tu gli eri qua sopra E non ve lo siete mai detti Tum 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 Ed è Non mi siete mai più detti niente Da quella cosa No è partito proprio Un Brokeback Mountain Però la Balduina Ma guarda No è molto È molto difficile insegnare È molto difficile Poi soprattutto bisogna Essere poco empatici Perché comunque Ma vatti a incazzare Con un ragazzo Che non ha studiato Storia La cosa L'incoronazione di Carlo Magno Nella notte Di Natale Di quando è stato Cioè Vatti a non innamorare Non sto scherzando Di un giovane uomo Di una giovane donna Vatti a non Vai a non Immedesimarti così tanto In quella persona La cosa È la cosa più difficile Del mondo Il lavoro più difficile Eh sì Bisogna essere Bisogna essere molto severi A livello spirituale No no A livello A livello vero A livello reale Fisico È dodo per scontato In quale silva oscura Bisogna specificare Perché scusa Innamorare Perché gli hai voluto dare Il valore fisico Quando io sto parlando di Perché prima abbiamo Parlato dei signorini Quindi Ah ok Quindi tu sei innamorato Di signorini Ragionando per silogismi Appena hai potuto Scusa C'è mai stato un professore Che ti ha capito Al liceo Tahir Uno che aveva capito Il Tahir persona Alle medie Una professoressa sì Però alle medie Ero troppo stupido Aveva letto dentro di te Quindi alle medie Ero tipo io Diceva guarda Stavo io Non l'ho unculata pure oggi Mentre invece Era una professoressa Bravissima Che voleva Starmi appresso Bravo Quelle sono le professoresse Che ti insegnano A crescere Che io Ho avuto La fortuna di avere Cioè ci sono professoressi Che ti lasciano tanto Professori Che ti fanno diventare Un uomo Perché questa poi O una donna Insomma la cosa importante Certo Che ti tradiscono Che ti fanno pensare Che tu sei il loro pupillo E poi la mannaiata Prendi un quattro Che ti distrugge le vacanze E cose così Ci sono dei professori Che vi hanno Che voi ringraziate Perché vi hanno lasciato Tanto a scuola Cioè avete avuto Belle esperienze Al liceo Sì sì Almeno tre quattro Che proprio ancora Penso Ma io tra l'altro Ho dato ripetizioni Quindi sono stata anche Dall'altro lato Ah sì? Che ripetizioni davi? Davo ripetizioni di latino Storia Geografia Cose insomma Da Ma vi giuro ragazzi Quanto mi hanno odiato Quei miei studenti Ma dei maschi Guarda non ho dubbi Ma dei maschi adolescenti Ma a che età Davi ripetizioni? Loro No io durante l'università Ah durante l'università Davi ripetizioni A dei ragazzi Di liceo Sì sì Per guadagnare Un po' di soldi Davo ripetizioni Questi miei studenti Mi odiavano Non fatico a immaginarlo Madonna mio ragazzo Ma ogni tanto Gli lasciavi vedere Certo Due centimetri Era la prima cosa Appena entravo Un petto di fuori Come il green pass Che era il green pass Dell'epoca poi E si entra Ragazzi possiamo controllare La zinna Grazie Grazie Ed entrava Tra loro c'era per caso Truce Baldazzi Truce Baldazzi Un ragazzo di Parma E' molto difficile Che lì ci abbia dato ripetizione Alla scuola media Rastignano Che salutiamo No invece Tu Cecilia Non hai avuto problemi No io mi ricordo Quella tua professoressa Ma che ne sai De attanate Ciavi da facile C'hai il giacchetto Da Garart Ma a 15 anni Ma che ne sai Io faccio l'operaia Eh lo so Però lei aveva Sto al cantiere Cosa vuole da me Qual era il motivo Del contendere Per cosa ti aveva ripreso Beh forse Per un atteggiamento In classe Adesso come Sì Beh poi io sono Sempre diciamo Stata molto tranquilla Rispettosa Eh tranquilla Sì magari parlavo Con qualcuno E lei stava spiegando E mi ha ripreso Dicendo questa cosa Ma che ne sai tu C'hai la vita facile C'hai il giacchettino Da Garart Però ancora sei qua Che te lo ricordi Ma è falso L'ho comprata via Sannio Ma no Ancora te lo ricordi Perché i professori Quando dicono queste cose Soprattutto queste cose Che ti si attaccano addosso Perché mi sono sentita Perché mi sono sentita Offesa Per qualche cosa Che ancora ad oggi Fatico a capire Cioè era tipo Un'offesa gratuita Eh Senza senso Mi ha fatto ridere in realtà Con gli anni questa cosa Certo Perché ancora me la ricordo Forse la sua posizione era Ma compra Quello di Stone Island Ma che te metti Sti gianchetti Da Garart Che te pì in freddo Esatto Abbi pazienza Che erano quelli Che ti dovevi togliere Da sopra Nel liceo ho avuto Poche professoresse O professori Di cui ho Un piacevole ricordo Molti erano annoiati Distratti A fine carriera Vedi questi sessantenni Stanchi Che sono quarant'anni Che stanno lì Prendono pochi soldi Sono frustrati Hanno problemi a casa E proprio fanno di tutto Per fartelo vedere Quindi non è una bella immagine E a questi professori Avete mai fatto degli screzzi? Madonna ragazzi Edotti Ti faccio un elenco di materia In cui avresti potuto insegnare Vai Professori di geografia e storia Al ginnasio No grazie Latino, greco, italiano Al ginnasio Sì grazie Per la letteratura Molto bella Matematica in qualsiasi classe Qualsiasi scuola Neanche in un altro universo E così quindi immagino Chimica, fisica Sassi Attenzione Chimica per qualche ragione Mi piaceva Mamma mia Non so dirti Per come Non so dirti come mai Educazione Fisica Educazione fisica Ragazzi Boh c'è la ragazza C'è sta ferrario Sabato mattina Non c'ho Che palle No l'avrei fatto solo Per riabilitare Il quadro svedese Perché a quel punto avrei detto Capiamo a che cazzo serve Questo quadro svedese Educazione fisica No Cosa avresti voluto insegnare Tu eventualmente al liceo Proprio che non avevo scelta Eh Storia e filosofia È bello Però mi sarei perso A dire minchiate Assolutamente inesistenti Mai viste Lasciando gli allievi Con te Poi c'è internet Oggi Ti rendi Cos'ha detto professore Ma voi vi ricordate Madonna Geografia astronomica Tu entravi in classe Alle 8 di mattina Comunque uno fa delle cose Si scorda Tu entravi in classe Alle 8 di mattina E avevi una persona Che ti parlava Per 60 minuti Della tua vita Di sassi Cioè della differenza Fra Ti me lo chiamavamo sassi Le brecce Sì 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 Le brecce E le Le selci Come cazzo Come si fa Comunque educazione fisica L'ha insegnata Silverse Stallone Prima di diventare attore Eh infatti È lì che si è fatti i muscoli Ah in realtà speravo Che facesse le Molti Molti professori Di educazione fisica Nella loro vita Si sono detti Fino all'ultimo Ma vedi che Se l'ha fatto Stallone Lo posso fare anche io Rocky è ambientato In una scuola media E allora però Io visto che Insomma siamo qui apposta Facciamo questa domanda Francesca Esposito Sei stata motivata Nella tua scelta Di fare la professoressa Dalla voglia di emulare Silvester Stallone Beh non proprio Diciamo Non proprio Ok c'è stato un altro motivo Quindi Sì Benissimo Vogliamo introdurre La nostra ospite Oggi abbiamo qui Francesca Esposito Francesca Esposito Comedian Di gran classe Vero E Di provenienza Tu sei di dove Scusami non mi ricordo Con questo cognome Trevigiana Trevigiana Bolzanina Papà Bolzanina Mamma di Treviso E Non scherzo E soprattutto Anche professoressa Oltre che comica Ti definisci comica O comidienne Così togliamo Comico Comica Mi piace di più Perché c'è più Stacento comica Capito E' più bello E' vero E' più stacento Senti Però Oggi sei qui Nelle vesti Istituzionali Di professoressa Del liceo Dico bene? Sì Esattamente Buonasera a tutti Un saluto ai ragazzi Del liceo Che da domani Ti prenderanno Molto meno sul serio Lezioni Quindi tieni presente Che insomma Questo per la tua carriera È un passo in avanti O indietro Non lo sappiamo Faranno limitazioni di Tahir Per questo Professore Mettimi in altro Abbiamo sbagliato i fuochi Scherzo Scherzo Allora Da quanti anni Insegni Al liceo? Allora Questo è il mio ottavo anno Ottavo anno Quindi hai iniziato prestissimo Sì Ho iniziato a 24 anni Subito Sì Subito è una storia Che con questo accento È subito una storia Di rivincito In qualche modo No Non lo so Se è di rivincito O di sconfitto Quest'ora lo capire Senti Ma però Allora Per capire un attimo Cosa Si fa in Italia Per diventare insegnanti Come hai fatto a diventare Così presto insegnante? Allora diciamo Sei figlia di un senatore No Guadagno troppo poco Per essere una figlia di senatore Però No Praticamente in Italia Non ci vuole niente Per insegnare Nelle scuole private Bassa la laurea Quindi ti presenti Come un qualsiasi Come un qualsiasi colloquio di lavoro Con il tuo curriculum E ti proponi Per una candidatura E se vai bene Inizi subito a insegnare Questo nelle private paritarie Quelle delle suore Diciamo Ecco Che fanno in due milioni e mezzo Di persone Per due posti Per due posti Allora Non ancora il ministro Ci ha dato questa possibilità Di farlo Sono otto anni Che aspettiamo un concorso Quindi Quindi però Come hai iniziato Cioè tu hai fatto No ho iniziato Mi sei iscritta Nelle graduatorie Che non c'è Non c'è un concorso pubblico Nelle graduatorie Semplicemente ti iscrivi In una piattaforma E da quella piattaforma Le singole scuole Chiamano i docenti Che gli servono Ma è tutto digitalizzato? Adesso sì Ah e funziona bene? Assolutamente no Ci sono un sacco di problemi Di ricorsi Di bestemmie Sì esplicitate Però siete tendenzialmente Diciamo Di età abbastanza giovane Fra quelli che Sono nelle graduatorie adesso O trovi anche il sessantenne? No puoi trovare di tutto Perché poi comunque Trovi soprattutto pure Tante persone Che hanno smesso Di voler fare il loro lavoro E quindi A un certo punto Dicono voglio andare a insegnare Perché voglio fare le tessisti Cioè e ti vuoi fare tessisti? Ecco Bello No è uguale Tanta gente che smette Di fare lavoro precedente All'università della vita Allora se dico Via Goito Quanti minuti Arriva Taxi Giallo Arriva Unite 62 In Via Goito Non sai tanti cosa? Perché tu sei lavorato In giurisprudenza Certo Tanti avvocati Tanti Cioè avvocati che smettono Di fare gli avvocati Gli avvocati E vengono a scuola A fare professori di sostegno Insegnanti di sostegno L'hanno già fatto Insegnanti di sostegno Mai mi farei fare L'insegnante di sostegno Da un avvocato Perché veramente Questo non scriverlo Questo non dirlo Alla professoressa Questo non sei autorizzato a dirlo Questo non hai il diritto E di chiedertelo Senti quindi vabbè Al momento tu sei supplente Sì siamo No precaria Perché non è proprio supplenza Perché io non Diciamo Non sto al posto di nessuno Ogni anno Lo Stato Dici che stai Deve essere supplente È vero Sì c'è una cattedra vuota E ogni anno Lo Stato mi fa il contratto Dal 6 settembre Al 31 agosto E poi me lo rinnova Il 6 settembre Il 6 settembre successivo Quindi passi quel mese Di No Quei sei giorni Cinque giorni Quei sei giorni Che relax Finalmente adesso posso Ma E quindi tu speri Che muoiano i professori anziani Cosa sperate Perché in realtà Non lo sappiamo più Vangono che sperare Cioè Non lo sappiamo più Perché in realtà Ci sono i posti Sono andati tutti in pensione Sono morti E quindi Cioè c'è tanto Lavoro in realtà Anzi c'è una carenza Adesso di docenti Ma una conoscenza Non la tieni in famiglia Ma non lo tieni Un santo in paradiso Un santo in paradiso Una mano Una mano qua È forza Ma quindi scusami È una situazione analoga A quella dei medici Per esempio Sì molto simile Ai medici specializzati Che hanno una specializzazione Lavorano da precari Negli ospedali Ma non li stabilizzano Perché costano troppo Allo Stato Cioè secondo lo Stato In realtà La paga di un insegnante È misera Quindi Ma quante assemblee fate Per parlare di queste cose Fra di voi Eh se ne fanno tante Solo che poi Gli insegnanti Ci hanno pure un po' Sto fatto Che sono abituati a lavorare La mattina Allora il pomeriggio Non devono stare impegnati Quindi appena c'è un'assemblea La sindacata Nessuno si presenta Ah vero Ci hanno proprio Sto fatto Sì Eh certo Quindi sei Un'avversità al pomeriggio Un pochino polemica Aversi professori di ruolo Se riesco Se leggo fra le righe Eh vagamente Eh sì Un po' Vabbè Un po' capitare Certo Ma sono dei vecchi decrepiti Professori di ruolo È gente che Ha sbagliato tutto No Alcuni Si lamentano tanto Si lamentano molto Non ce la fanno più Ma perché non ce la fai più Dopo tanti anni Poi pure gli scatti di carriera Sono imbarazzanti Dopo trent'anni Guadagni duecento euro in più Rispetto al pregare Cioè capito Cioè tu dici Sono trentacinque anni Che getti il sangue Vai a vedere la paga E guadagni meno di tuo figlio È normale Che stanno ingazzati Cioè avete il tre mesi Di vacanza Non lavorate il pomeriggio Allora sempre lamentarvi Gli insegnanti Che poi ormai i ragazzi Studiano sull'internet Non è che c'hanno più Il bisogno di voi Capito Come la prendi Quelle cose che dice gente Tipo Luca Ravenna Questo fatto no I tre mesi di vacanza Perché si dice Spesso lavorano Cinque giorni a settimana Anzi quattro Se non mi sbaglio No no Cinque 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 Avete tre mesi di vacanza L'anno Il pomeriggio non lavori Ma che vuoi Come la prendi Queste cose che vengono dette No ma infatti Lei come il doppio lavoro fa La comica Diciamo infatti La maggior parte Gli insegnanti Deve fare il doppio lavoro Perché se no Non ce la fa Però allo stesso tempo Non conoscono Il lavoro dell'insegnante Perché il pomeriggio Ti devi preparare le lezioni Devi comunque Cioè il giorno dopo Non è che vai in classe E sei in jukebox E dici a memoria Traduci a memoria Una versione di serie Era una domanda provocatoria Però certo Siamo appena meglio Della gente che dice Noi da ex studenti Io pensavo Il professore La professoressa È martedì E mercoledì Sono già delle macchine Non pensi mai Che ci sia un essere umano Lì dentro Ma è un cognome Tendenzialmente associato A un epiteto Non proprio elegantissimo E pensi che va Da dritto Per la sua strada Non ha mai bisogno Di recuperare Studiare Mai Mai Ti vende il suo libro Pezzo di merda Ah sì Sempre E questo è quello che pensavo E che al liceo Già i libri erano scritti Da professori All'università All'università Io il mio libro di storia Mi ricordo che Era scritto Dalla tua professoressa Vabbè era una rockstar Eh appunto Guarda che era Non è molto frequente Ah no Io pensavo fosse La pratica Ma quando mai Guarda che scrivono I libri I manuali scolastici Li scrivono i migliori Professori In Italia Cinzia Crepaldi Un bacio Il Crepaldi La Crepaldi No dico però Il libro di storia Si sarà chiamato Il Crepaldi Lei lo chiamava Il mio libro No invece È molto frequente Non è vero Non ho mai detto Il mio libro Molto frequente invece All'università E tipo tu fai Qualsiasi corso E tu fai Allora quindi Questo è il manuale Di diritto privato E poi dovete anche Acquistare assolutamente Questo manuale Sul Il diritto Della telefonia mobile Nella Italia Nord orientale Scritto Da me E lo dovete acquistare E questi vendono Magari 2000 copie l'anno Ma prof Era un libro erotico Che racconta Allora io avevo L'ambizione di fare Lo scrittone Se permette Porci con le ali Mi fa una proverbiale Pippa E non ho paura A dirlo Io pure all'università Avevo professore Di inglese Letteratura inglese Il libro era La pietosa Scritto da lui La pietosa morte Di Giulietta Caguletti Il libro Completamente scritto In italiano E l'esame E l'esame Con sistema Che te lo dovevi Solo comprare Quindi mi ricordo Ancora l'esame Andai con il libro E mi diste Espo Origina Professore Eccolo Trenta Così finì Il mio esame Che non so l'inglese Doha E no No Ma infatti è colpa De sto professore Ma lo so Ti stai trasformando In Lello Arena Quando parli Gaeta Io ho una domanda Che da tempo Vorrei fare a un insegnante Ma sei la prima Che incontro Cioè È cambiato Nella tua carriera Solo in otto anni Il rapporto Con i genitori Nel senso che Una volta Si pensava Che la parola Professore Professoressa Quella è E i genitori Ti dicono Pezzo di idiota Ragione Duele Oggi È cambiata È abbastanza Sì I genitori Sono Sono diversi Non sono Preauto Sono molto presenti Perché hanno La possibilità Di avere Questo registro Elettronico Quindi loro H24 Controllano L'attività In classe Del figlio Se il figlio Non entra a scuola In dieci minuti Arriva la notifica Sul cellulare Quindi Sono completamente Schedati T'hai irrasbiancato Conoscono tutti i voti Quindi tu non puoi dire Mamma ho preso otto E poi prendevi quattro Oggi non si può fare Una cosa del genere Perché in diretta Sanno che prende quattro Questa è la fine Della scuola Per come noi La conoscevamo Sì È proprio un'altra cosa Ma non per la menzogna in sé Perché almeno Cercare di guadagnare Tempo Fino all'incontro Professori Genitori Di gennaio Febbraio Però anche qui Ragazzi È una società Iperprotettiva Cioè Imparare a dire Le bugie Ai genitori Ti faceva crescere Cioè È una società In cui tua mamma All'ansia Perché ha preso quattro In chimica Che chi cazzo Se ne frega Dire le cazzate È stata la cosa Più importante La scuola Mi abbia insegnato Ma no Nel mio lavoro Dire le cazzate È fondamentale Anche la responsabilità Di sapere Che tu magari Hai una settimana Per recuperare Perché tra una settimana Tua mamma Va a parlare Con la professoressa Ma certo Cioè sapere Ma poi sapere Anche gestirsi lo studio Cioè sapere Quando potevi mollare Prendevi quattro Non importa Studiavi un'altra settimana Recuperavi E quello va bene Oggi invece abbiamo Una pletora Di mamme ansiose Che si vedono arrivare I voti dei figli Sul telefonino È una roba Neanche black mirror Ma poi hanno questa cosa Che gli devono scrivere Pure in classe Sul cellulare Quindi Arrivano le notifiche Di whatsapp No era mia mamma Ma ha detto A che ora uscivo Che volevo per pranzo Cioè È un contatto costante Scusa Ma fammi capire una cosa Cioè i tuoi alunni Stanno col cellulare in classe Sono autorizzati Ad avere il cellulare In mano Durante le tue elezioni Francesca Fammi capire un attimo Ovviamente no Ma hanno disturbi Dell'attenzione E dipendenza Da cellulare Che è come levare L'eroina A un tossico Iniziano a sudare freddo Quindi tu li costringi A tenerlo nello zaino Ma dopo 10 minuti Vedi che tremano Quindi lo prendono Lo fanno Cioè è una cosa inquietante Però questo aiuta È difficile da gestire E aiuta però Cosa A cosa serve questa roba A niente A niente A niente C'hanno tanta ansia Se li vedete Sono proprio ansiosi Vedi i genitori Che leggono le notifiche Hanno tutto registrato Contrano tutto Arrivano al momento Del confronto con voi Professori E quindi che cazzo Vi dovete dire Ma pure il modello Il momento del confronto Prima era una volta l'anno Ma ogni settimana Si è obbligata a fare Io ho un'ora a settimana In più di contratto Ogni mattina La mattina Con i genitori No però scusate Non era una volta l'anno Era una volta al mese prima No Era due volte l'anno A quadrimestre Ma come una volta Una volta a settimana Con la mamma Di Francesco Bauluzzi Cosa vi dite? Niente Bene Professoressa Come lo vede mio figlio Si è ambientato Si è inserito Signora ne ho 15 anni Ma dove siete inseriti? 15 anni Siamo alle medie Faccia lei Scusa però Nel senso Ti avevamo chiamato Anche un po' Per poi poter dire Ma è vero Che questi giovani Alla fine I cellulari Non gli stanno facendo Così male Non è vero Che li subiscono Così tanti Io speravo E tu mi dici No Invece stanno facendo Invece stanno subendo Tantissimi Dopo la pandemia È successo qualcosa Di assurdo Scusami Dopo la pandemia Sono peggiorati Sono peggiorati Proprio Abbiamo dei problemi L'hai visto proprio Si si Sono Ma pure il casino Ti ricordi Quando entravi Nelle scuole C'era il casino Quel rumore Di urla C'è il silenzio Ma da cosa Stai preparando Un pezzo Per Made in Sud La prima volta Ci stava Il casino Ma Alessandro Di Carlo Quella roba nostra Non c'è più Non c'è più rumore In classe Entra professione Ma non c'è più Dopo la pandemia Dopo la pandemia Perché comunque C'hanno tutti la mascherina Poi i cellulari Quindi nell'ora di buco Prima si lanciavano le cose Ora stanno subito sul cellulare Che anche un po' serve a quello Quello la scuola No? No no Sul serio Cioè comunque C'hai 15 anni Ma che dici No no E così Quindi c'è tanto silenzio Ora nelle scuole italiane Quindi ora è modello svedese Tutti zitti Ci sono anche dei genitori Risultati no Ci sono Ti capitano dei genitori Invece Con quali c'è un rapporto di stima Con quali capisci No ma gran parte dei genitori Sono sempre i soliti genitori Semplicemente hanno un rapporto Molto più intimo con i figli Non mi so spiegare Cioè come se fossero Si parlano tanto Il mio figlio sta male Mi ha detto questo Mi ha raccontato questo Che palla Cioè è una roba Cioè tuo figlio Non deve parlare con te Che c'hai 50 anni Ma quindi secondo te Stanno diventando genitori amici Sono amici Ma anche allo stesso tempo Quasi ossessionati Dalle emozioni dei figli Mezzi psicologi Non lo so Che cazzo si leggono Comunque c'è È una roba Che vengono a scuola La miglior professoressa in Italia Carmelo Mi chiedevo Non fa parte Dell'insegnamento scolastico Anche il fare sega Avere un distacco Dai genitori Imparare cos'è Il mondo senza di loro Adesso non possono farlo Esattamente questo Dovrebbe essere Perché quello è il loro momento Cioè quel luogo è loro E sono le loro ore Perché è l'unico momento Di indipendenza Per un adolescente Perché gli adolescenti Vivono comunque tutti a casa Con i propri genitori Quindi quello è un momento Di indipendenza Non possono più fare sega Un'indipendenza controllata Perché loro sono sotto controllo Comunque Non possono più marinare la scuola Da quello che ho capito Senza dirglielo no Sono consenso La marina Ma col consenso Quando eri piccolo La cosa che ti terrorizzava di più Era quando facevi sega E ti arrivava la chiamata Di tua madre E certo La madre non ti avrebbe mai chiamato Mai A scuola Mai Però tu vedevi Chiamata mamma Guardavi gli altri amici Sono fottuto Certo Perché lì qualcuno L'amica guardia De tua madre Sì qualcuno Per strada Ha detto Ho visto tuo figlio In giro Sono fottuto Esattamente Esattamente così Anche la falsificazione Della giustificazione Ma certo Ma certo Io ho una domanda Intima Per una professoressa Cioè se ti è mai capitato Di uscire dalla classe A metà di una lezione Perché non sopportavi più Quello che stavo facendo Tipo troppo casino Non ti seguivano Tu stavi male Dei cazzi Tu sei uscita Per prenderti Qualche minuto Per te Perché è una cosa Che una mia professoressa Faceva di continuo Ma l'ho capito Vent'anni dopo E se era rotta Al cazzo di noi Usciva tre minuti E tornava E ripartiva Sì a volte Può capitare Che voglia di bestemmiare Non lo puoi fare E quindi esci Dalla classe Però Non mi è capitato Una volta Forse mi è successo Perché se no Mi avrei spaccato La faccia Solo per questo Senti ma invece Quanto è utile Ancora insegnare Il greco Il latino Nel liceo In un mondo Che è molto cambiato Da quando Si è deciso Di insegnare Il greco Il latino Al liceo In un mondo In cui c'è internet I ragazzi Hanno tutte le possibilità Di leggere le versioni Su internet È una domanda provocatoria Attenzione Allora Secondo me serve Io insegno il latino Esatto Perché tu insegni il latino Noi lo sappiamo Non l'abbiamo detto al pubblico Tu insegni il latino Sì Devo dire ragazzi Cioè ragazzi piace Studiare il latino Ecco esatto In realtà piace molto Studiare sia il latino Che il greco Piace studiare le lingue antiche Forse Perché È un po' come la matematica Però viene vista Non viene vista Per il suo fascino Oppure Anche poi Insegno a Roma Quindi io pensavo Sai Stanno a Roma Possono andare Stata Leggere le iscrizioni In latino Tradurre Le genitori Mussolini Produce Le latino Dux Questo è Duce Nominativo singolare Invece no La studia Almeno il linguistico Adesso Manca lo scientifico Come se fosse proprio una lingua Quindi con i meccanismi Dello studio di una lingua Come se fosse quasi L'inglese Ah ok Sì sì Infatti ci sono nuovi metodi Per insegnare il latino Ecco questo è insegnante Cioè è importante Cioè Quali sono i nuovi metodi Perché comunque a me Faceva molto effetto Tradurre Cicerone Cioè in un'epoca in cui Già comunque c'era modo Di copiare Tantissimo le versioni Sì loro possono copiare Dovunque Adesso c'è tutto E quindi Com'è cambiato Il modo di insegnare È cambiato Che tu ti devi Adeguare A loro A loro nuovo mondo E soprattutto Al fatto che hanno Una dipendenza Dalla tecnologia E infatti adesso Le nuove linee guida Ti hanno portato A fare la lezione Segmentata Cioè Praticamente In un'ora di lezione Il professore Spiega dieci minuti No Nella prima parte C'è un video Poi c'è un quiz Sul video Poi c'è un powerpoint Poi il professore Fa di lezione E affrontare Solo dieci minuti E gli ultimi dieci minuti I ragazzi fanno gli esercizi Ma veramente Cioè adesso Una lezione di latino È così al liceo Una lezione di latino La faccio così io Ma ci passano anche Le letterine A metà La pitella Perché loro hanno bisogno Di un'immagine virtuale Se tu stai un'ora A parlare Perza per sempre Sai qual è invece Proprio il nostro lavoro Stare un'ora secca A parlare A parlare Cioè vedi Alla fine siamo Gli insegnanti di latino Dell'epoca contemporanea Infatti questo E' una faccia La stand up Perché dico Cavolo Ai ragazzi piace da morire E stanno lì Ad ascoltare Un monologo Per un'ora Di una persona Con cui non hanno Niente a che fare E quindi Vedi E com'è C'è di mettere Battute dentro Perché poi in America La prima cosa Che si insegna È l'umorismo A tutti quelli Che devono fare Gli oratori Perché è l'unico modo Per tenere le persone Attaccate Ma di la verità Più del dativo Del vocativo Mamma mia Ti sei mai usata Una battuta Dei tuoi monologhi Un giorno E hai detto proviamola Una battuta Un sacco di volte Io uso come pubblico Spesso Adesso Sono gli allunni Più fortunati D'Italia Quattro platee Di trenta studenti Quindi a volte Provo Un sacco di volte Qual è l'età Tu insegni al ginnasio O al liceo No dal primo al quinto Ah dal primo al quinto Dai quattordici A diciannove anni C'è un quinto pure Che devono fare l'esame Ok Tu insegni ovviamente In diversi licei Quindi non sempre Nello stesso Sì Sono due anni Che sono nello stesso Però si l'ho girato Un po' quelli di Roma Tra Euro Qui vicino Forse al Morgagni No però sta a Monteverde Morgagni a Monteverde Sì sì Quanto è diverso Insegnare in un liceo Del centro O nel liceo di Borgata È diverso Sì sì Cambia Cambia molto Ma perché è più scomodo Raggiungerlo Allora Quello del centro Mi è capitata Una cosa assurda Facevo il direttore Dell'orchestra Vabbè non posso dire no Vabbè comunque Questo tizio Sì È venuto a scuola Ha messo le mani addosso Alla mia collega Ma proprio me è nata È venuto a scuola Con Icacio C'è un casino Ma questo scusa Era un adulto Era il padre di un ragazzo Che aveva preso il debito In matematica Direttore d'orchestra Direttore d'orchestra Vabbè comunque Viene a scuola Riccardo Muti Questo inizia online Poi avete le mazzate Sono napoletano Ma avvicino subito A dividere Perché poi Nessuno si era avvicinato Ma scusa Il motivo era il debito In matematica Sì Perché aveva usato Mettere il debito In matematica No ho presi tre o quattro Nei miei cinque anni Ho presi i cinque anni Con la scuola Con il casco Con il mio una Col casco Con il casco in mano A parte la mia collega Cioè ha aggredito Una insegnante Perché aveva messo il debito In matematica Per il periodo musicista È più grave Direttore d'orchestra Direttore d'orchestra Quindi pensa Quando poi lo vai a vedere Sì 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 Questo è molto irroente Cioè l'orchestra Cazzo Ci tiene Marto Lo chiamiamo pure i carabinieri E vabbè vedi È la scuola cattolica Di Albinati Parte tutto così Alla fine si vede E poi un viaggio Sul mare E chissà come finisce Casa fuori No comunque sì Le differenze sono che Diciamo che Quando sei in una periferia Ti può capitare Di aiutare i ragazzi Anche se non vanno bene a scuola Io poi sono la dica Che vabbè Se hai difficoltà Sei politico subito Perché comunque Ecco infatti Cioè vanno aiutati Perché alcuni ragazzi È meglio tenerli a scuola Anche se non fanno niente Ma meglio tenerli a scuola Che tenerli fuori la scuola Anche se magari Non riescono a impegnarsi Nello studio Perché hanno situazioni Disastrose a casa No? Però invece Se hai Una buona situazione familiare Hai tutto Il necessario Per emergere nella vita Se non studi Là Magari si è più severo E questo era Un bellissimo messaggio Grazie Francesca Grazie Tutto lo studio È importante Ricordare queste cose Ragazza Assolutamente Senti volevamo chiederti Francesca Che sentite O Silvia Toffanini Ogni tanto Ripensa E no E volevo chiederti Francesca Allora sei seguito Le polemiche Degli ultimi giorni Rispetto A questa questione Della divisa La divisa intesa Non tanto In senso letterale Quanto in senso Diciamo più figurato La vera divisa Degli studenti Le studentesse Quanto corta Quanto lunga Tu Da insegnante Cosa ne pensi Che lo fanno sempre Solo sulle ragazze Dovrebbero permettere Anche ai ragazzi Dovresti ricordare Nel 2016 Successe questo casino Per la moda Di tenere fuori Solo i testicoli Dagli shorts Noi eravamo già fuori Da dieci anni Ma Tahir era Uno dei No 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 noi rompevano Il cazzo Su cosa Non potevamo mettere I pantaloncini E non te sto Di pantaloncini Del merda Di felpa E le gattine Cotone Giz Blu Neri Beige Non ce li facciano mettere O meglio Ci provavano Poi noi ci mettevamo Guardi Ecco cioè Secondo te Uno studente Si deve poter esprimere Come meglio vuole Oppure è giusto Dare un ordine Un rigore All'interno della scuola Per far crescere Dei futuri ometti Cittadini E lettori Di modo che Si esprimano Però come Con lo studio Perché noi Li mettiamo tutti Sullo stesso piano Esatto Ricordiamo Che il grembiule Le divise Nascevano per Evitare discriminazioni sociali Perché tu potevi essere Di qualsiasi provenienza Però col grembiule Erano tutti uguali a scuola Certo Oggi diciamo Che lo status sociale Di un ragazzo Lo vedi più Che da come è vestito Ma da che scarpe indossa Comunque te fregano Pure che c'è il grembiule Le scarpe Sono le scarpe Sossessionati C'hanno una fissa Per queste scarpe Che stanno tipo 500 Le Alexander McQueen Ne conosciamo qualcuno Sono fissati Madonna Oppure Ovviamente Le Jordan Sono ossessionati Alle scarpe C'hanno una grande Passione per le scarpe Quindi penso che Senti ma questo In tutti i licei Cioè appunto Periferia Centro È proprio trasversale Non se ne esce Non se ne esce Ma è sempre stato Però è sempre stato così Dai Questo è vero Guardi le squadre Lavorerò Silver 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 Il discorso Le nero giardini Tutti i ragazzi Fissati Voglio le nero giardini Mamma voglio le nero giardini Lo si fa sempre vero Sulle ragazze Perché ovviamente È il professore Che fa È certo Ma mai si è vista Una professoressa Mai si Si lamenta Allora Giacomelli Mi provoca E non riesco a fare lezione Si mette lì Quella cosa Che gli fa vedere L'addominale Non riesco proprio A fare lezione Io non posso lasciare La seggiola Come se fosse passata La lumaca Va bene Professori Laidi Questi professori Laidi Questa È la clip Di Instagram Questa è la clip Questa è la clip Di TikTok Allora Se facciamo I comedian Facciamo i comedian Se stiamo qui A pettinare Le bambole Eh dai Pensa a questi professori Di 62 anni Che non riesco a spiegare Perché quella bambina Ha il testo di fuori Però ti posso dire Cioè ora dirò La classica cosa popolare Se il professore Di 60 anni Ha problemi Perché una 16enne È vestita in modo succinto Cioè sì Cioè Arrestatelo E soprattutto Ma che cazzo Devi insegnare Se non sei in grado Di fronteggiare Arrestate questo cazzo Di 60enne Che potrebbe diventare Un pedofilo Dall'oggi al domani Cioè È completamente Un argomento complicato Sicuramente Però ecco Diciamo che è difficile Dire alle ragazze Capita spesso C'erano parecchie Che vengono Quasi Mettono solo il reggiseno E poi la felpa Poi a ricreazione Si abbassano la felpa E quindi stanno Mezzanude Diciamo Quello che succede Succede Però C'erano 15 A me sembrano proprio Ma sono personalità Così tranquille Ragazzi e ragazze A 16 anni Sono persone A cui dirgli qualcosa A loro C'è un bel confronto Fra noi Certo Ma se il confronto È fra 15 anni Va benissimo Per me è quando Un 63enne Dice No Io non voglio Vedere quella cosa Se no non riesco A insegnare Le ossidoriduzioni Cioè Cazzo E invece Le grandi battaglie Sociali dei ragazzi Oggi Quali sono Ecco Allora Loro sono molto attenti I ragazzi Che tu conosci Stiamo parlando con te Sì Sì Dei tuoi alunni Dai Dei tuoi alunni Interessante Loro sono molto attenti A diritti civili Ovviamente Zero sui diritti sociali Loro non Gli interessa minimamente Diciamo L'altro Loro non si concepiscono Come una generazione Che fa le cose Per l'altro Che sta accanto a lui Ma sono molto forti Sui diritti civili Come fanno a non andare Di pari passo Queste due cose Perché I diritti civili Sono universali Perché riguardano loro Perché riguardano La loro generazione La loro libertà Sono identitari Quindi si rivedono I diritti sociali No Quindi anche la povertà L'immigrazione Quello che soffre L'operaio Che non arriva a fine mese Cioè Quelle grandi lotte No non li riguarda Assolutamente Nessuno fa Volontariato Proprio Stavo proponendo Progetti volontariati Perché a 19 anni C'è qualcuno Che non ha mai fatto Volontariato No Però ecco Invece sui diritti civili Sì Però la loro Vera grande ideologia Di oggi È l'ecologia È quella Che ha sostituito Tutte le vecchie Ideologie nostre Della politica Sì Quello che noi Era Comunismo Diciamo Comunismo Negli anni 2000 O Chi blocco Studentesco Magari invece Che era più Legata alla destra Loro C'hanno proprio L'ecologia Come nuova Forma ideologica Insomma E rompono i coglioni Se ti vedono buttare Se tu ti stai mangiando Alla tua kinder brioche Quella plastica Sei fame Che già ha una serie Di errori Dentro la kinder brioche Intrinseca E butti la plastica male Vengono a dirci A volte sì Sì Sono Però nemmeno così attivi Hai capito Li vorrei ancora più cattivi Ma non lo so Sono buoni Sono poco incazzati Però sui cellulari Ah quante ne dicono E infatti Volevo chiederti Ma il famoso bullismo Vedi Noti Ci sono dei momenti Un po' fisici Vecchia scuola Esatto Ma è come quando Noi andavamo a scuola Oppure è cambiato il bullismo No Allora È uguale Come sempre Nel senso Che se si punta Un ragazzo Quei ragazzo Viene pure Torturato E massacrato Cioè proprio fisicamente Ecco Anzi Purtroppo Da poco proprio È capito una cosa del genere Quindi Quello continua No Poi c'hanno Il problema Ovviamente Il cyberbullismo Che ogni anno Viene la polizia a scuola Siamo obbligati Facciamo proprio gli incontri Con la polizia Ah ok Perché si Fanno un casino Sui social Fanno C'hanno 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 È vero che il cyberbullismo Di oggi È molto peggio Del bullismo Fatto in classe Io penso di no Dici no? No Io penso di no Perché comunque Puoi sempre staccarti Ma non ci riesco L'altra alternativa È che non puoi girare Nel corridoio Cioè tu non puoi arrivare In classe Però ho capito un punto Se giri al corridoio Arriva la spintona Sul social Arrivano 50 persone E ti dicono Omosessuale Fai schifo Effemminato Però ti devi pure tu esporre Per essere Nel senso che Se tu decidi di non esporti più Ovviamente È una cosa difficilissima Però uno sarà pure libero Di esporci sui social No 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 Non sto dicendo Certo Sto dicendo È più facile uscirne Nel senso che Se invece Un gruppo di ragazzi Ti tormenta a scuola Ovviamente sono tutte e due Due cose orribili E i ragazzi Come tutti gli adolescenti Di sempre Hanno una vena Comunque un po' sadica Perché so così Certo Hanno una vena Un po' sadica Sadica Nel senso Cioè I ragazzi purtroppo Possono Possono essere cattivi Però rispetto a questa Interesse per i diritti civili Per esempio Cioè tu vedi Secondo te Se oggi Un disabile O un omosessuale Viene bullizzato in classe Tu vedi che c'è più solidarietà Cioè rispetto a quando Andavamo a scuola Noi no Questa cosa non la fate Se siete degli stronzi Sì Allora sull'omosessualità Non gli rompete il cazzo Sulla omosessualità Sulla disabilità Sulla disabilità Non sempre Non è ancora trend La disabilità Non è una battuta Perché mi è capitato Mi è capitato E invece sull'omosessualità Sono molto molto Di questo sono orgogliosa Di questa generazione Perché comunque sono molto Più aperti E più avanti Diciamo Di quelle precedenti Su altri però Ecco Sulla sofferenza Degli altri Non sono molto empatici Ci sono dei casi Di bullismo Che ti fanno sorridere Tu vieni a sapere Di come viene preso in giro Uno o una E tu dici Beh in effetti ci sta Cioè quello Fatti una domanda Quando io sono entrata Al liceo Quindi ormai 15 anni fa Al primo anno C'era questo scandalo Uno dei primissimi video Hot Girati a scuola Che girò addirittura Al TG Mi ricordo TG1 Questa storia a Catania Al liceo A scuola tua? A scuola mia Sì Era appena successo Questa ragazza Ha fatto questo video Con le tette di fuori Insomma Grande scandalo Immagino che in 15 anni Questa cosa sarà diventata Certo Guarda A me mi è successa Una cosa assurda Quattro anni fa Al liceo di Roma Del centro Un ragazzino Durante la mia ora Ha preso il telefono Di una sua compagna di banco Gli ha preso le foto Che era in slip 14 anni E le ha vendute In tutta la scuola A 5 euro Che coglione Ma questo Anche il bulletto Antipatico Che è dentro di me Questa cosa Non mi fa Una scena di American Pie Però lo vedi Perché noi ci connettiamo Su questo Siamo due persone Che hanno subito bullismo E poi sono diventate bulli Sì Come tutti Ogni bullizzato Tutto ma questa roba Così è Sì Sì È brutto Anche se ha fatto business Fatto business lui Non potevate farvi bullizzare E pensare poi Di vendicarvi Con la comicità Come me Cioè Mai bullizzare nessun altro Fare battute sui bulli 30 anni dopo Anche io faccio uguale Facciamo tutti così Ma No No questa è una bellissima domanda Vabbè ragazzi però Cellulare in mano Ormoni esplosivi Direi che non è una cosa pronta A detonare No Diciamo Sono due cose Che terrei molto separate Sì Perché quelli sono rimasti Gli ormoni Quelli ci sono C'hanno sempre C'hanno sempre Voglio di scuva Adesso uno a testa Io ti chiederemo Infatti Se esistono ancora I grandi Stereotipi della classe I ragazzi Edo li trovi all'ultima pagina Certo Il figo Non ci chiederemo più Non è più quello che scopa Non scopa più Grazie a questo Sì ma Ma non è carissimo C'era un amico Che si è diplomato Tre anni fa Mi ha detto Io non ho mai fatto un cazzo Mi sono sempre salvato Con la scusa Che ero rappresentante D'istituto È vero Perché poi i professori E' più indulgenti Quei rappresentanti D'istituto Ma tanto quello C'ha da lavorare Il rappresentante D'istituto Stanno organizzando Il corso In tripino sismico L'autogestione Ha tantissimo da fare Questa settimana E il meno interessante Rappresentante di classe Sì sì Lo vogliono ancora fare Quello però Sei un po' merdone No se l'ho sfigato Cioè quando andavo Sfigato Io sono stata Rappresentante di classe Per tutti gli anni Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Non si avrebbe mai detto Lo sai in classe mia Come ascoltavamo Il rappresentante di classe Diceva No ragazzi Sì dai Statshitto Stronzo No ragazzi Io ero amatissimo In classe Perché mi facevo fare Sempre l'ora di assemblea Che volevo dire Non fare lezione Però noi facevamo Una al mese Una al mese Sì una al mese Una al mese Di possibilità Strategica Cioè tipo Qua c'è il compito In classe No quello non si può fare No noi così facevamo Vabbè ma Te la devi concedere La professoressa Però Ma la faccio Senti C'è un po' così Categoria Quello che porta L'erba in classe Ancora c'è Certo Sì sì Mi è capitato Di comprargliela No C'è l'aveva sul banco Vicino all'astuce C'era dizionario di laddino E pezzo d'erba L'ho guardata Ma che cazzo C'è fa Leva sto coso E lui mi ha Dizionario Prontissimo Allievo della comica Ha imparato Ho imparato presto E il sempre simpatico Figlio di papà Che fa notare agli altri Le sue origini Sì C'è Certo C'è la macchinetta Sempre La macchina 50 Quello pure non è mai cambiato Ma certo Ma certo Pochi motorini Lo sapete Quella nuova generazione Non comprano più motorini Infatti la piaggia Sta in crisi in Italia Per questo motivo E quindi che comprano Più che altro Aspettano i 16 anni O i 18 anni Perché i genitori Sono convinti Che sia più sicura Certo E un botto In realtà Ma poi scusa Ormai forse I cultra Monopattini No Non li puoi prendere I cultra Se non sei 18 anni Nella patente Quante belle cose No no Quell'amore Per il mezzo Sì per il mezzo Quella però è una cosa Molto È molto anni 70 Molto anni 90 C'è la rigirata Le cose Cioè guarda quella roba lì Però si è persa E di modificare i motorini Modificare i motorini A pure avere Liberti truccati Modificano le macchinette Le macchinette Certo Vabbè Quello è vero Con i neon sotto Sì sì È così Il figlio del Del direttore d'orchestra Che ha fatto l'aggressione Che tipo è per esempio Eh no Lui Per avere un padre così Esagitato Lui è molto tranquillo È venuto fin troppo bene Sì è venuto fin troppo bene È tranquillo come Beethoven Sì sì No ma quando sono i genitori Completamente pazzi Solitamente i figli Sono molto stabili I figli di psichiatri Sono sempre pazzi Sì sì Quello succede sempre Ricordiamo Dovrebbero essere come i preti E non fare figli Ah dici sì Può darsi Farà un patto Non vuoi fare Quello tipo di lavoro Se c'è una pila Mio padre è psichiatra Lo sapevo mentre l'ho detto Guarda Ma i tuoi sono separati No Orcafra Però Napoli Meno meno vale più Quindi Perché mai Perché mai Senti Le femministe Ci sono Le neo femministe Sì belle Le ragazze di me sono femministe Sono belle Queste mi piace Di questa generazione Assai sono femministe Ma poi li divorano Appena parla Feroci Che piacere Stare in classe Sarebbero stati cazzi Sono feroci proprio Quali sono le cose Che proprio Non si possono dire Che questi giovani Si nervosiscono Ecco Quando gli fanno Qualche battuta Tipo Non si può dire Quella parola Troia La parola con la T Perché qua si parla Sempre di La parola con la F Con la N A scuola Non puoi dire più Una parola del genere Se un maschio Dice una cosa del genere Viene aggredito Sì Aggredito Come ti permetterò Cioè proprio una roba Infatti la chiavo La parola con la T Cioè Non Non le senti Proprio più Queste Queste espressioni Nonostante però Molte femministe Hanno ripreso Il termine Troia In senso positivo Ma è risultato L'americana Questa cosa Quindi si parla Di Leneide No no Dico C'era una battuta Alla fine Adesso mi farò più ridere Però quando si parla Del cavallo di Troia Anche la professoressa We're talking about The horse Can we please Like not say that There were some men Who went inside This horse Quindi non si può dire Questa cosa Sì c'è un maschio Non la può dire Ovviamente Cioè È diverso Ragazzi È la nuova N-word È la nuova N-word Esatto C'è un corrispettivo maschile? No Non Ovviamente Non esiste Non azzardarti A darmi del puttano Chiaro? Va bene? Senti ormai Stiamo andando Verso la conclusione Sì Senti qual è una bella Soddisfazione che ti ha dato Un tuo alunno Una tua alunna Allora No una alunna che Volevano tutti bocciare E io sono battuta Per non bocciarla E adesso Sta all'università E sono contenta Perché tra l'altro Avviene da una situazione Particolare Aveva visto due anni In casa famiglia E ho detto C'è di tante persone Mi impuntai Anche se non avevo Un compito suo Le misi tutti Nelle mie materie Oggi Sta all'università Quindi sono contenta E oggi Quella studentessa È Hillary Clinton Sai quei meme Che si vedono Di un due ore Gli tene una pacca Sulla spalla E oggi Quel bambino È Barack Obama E Invece Senti Una Una cosa Che ti hanno fatto I tuoi alunni Che veramente Le avresti voluti Ammazzare Una mattina Non mi sono svegliata Mi sono dimenticata Cioè nel senso Mi è partita la sveglia E quindi Ho chiamato Non ho chiamato La scuola Perché ho detto Vabbè dai Mezz'ora di ritardo I ragazzi Che faranno E i ragazzi Sono andati Dalla preside E dicono C'è la professoressa In classe Quindi ho avuto Un richiamo Disciplinare Massa che guardia Vabbè Ma c'è Lo studente Non capisce Perché poi No no Loro sono istruiti Se faccio tardi State zitti Cioè Loro lo sapevano benissimo Il problema è che non capiscono Cioè io ero il primo Perché eravamo tutti Dei coglioni Non capisce che anche Il professore È un essere umano È un essere umano Certo 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 Perché sto veramente Malinterpretando Il regalo alla maestra Forse Però le elementari Amicizia lunga Non me lo ricordo Le elementari Al liceo Mi ricordo I braccioletti Di pietre dure Si regalavano No No Si faceva il piaio Con queste braccia Forse era La rappresentante Delle mamme Degli studenti Che raccoglieva i soldi Che raccoglieva i soldi E faceva il regalo Madonna Ma tu lo sai A scuola di lì Mi hai fatto ricordare La rappresentante Te lo giuro Non sto scherzando La rappresentante Delle mamme Era cleptomane Mi portò il regalo E poi mi rubò Dalla borsa Tutti i soldi Te lo giuro La scuola delle sue Alle orelli Era famosa questa Perché era cleptomane Perché mi fui derubata A scuola Andai dalla preside Ma al caso Ho incontrato questa mamma E ho detto Sì Quello è cleptomane Me la poteva dire prima Quindi mi fece Il regalo E poi mi svaliggiò La borsa Con tutti I soldi Il portafoglio Forse nel mondo di adesso Tipo Possiamo rispettare La cleptomane Ecco Anche lei C'è una malattia Siamo tutti speciali Allo stesso modo Per cortesia Sì Mentre venivi qui Hai pensato Che volevi dire qualcosa? Ti domandai Carmelo Vi posso fare l'appello Voglio di farvi l'appello Ah Vi eravate accordati Per farlo così Bravissimo Carmelo Scusa Scusa Ok Devo fare l'appello Posso farlo? Prego Ok Attanasio Presente Avanzato Presente Mussein No Mussein Ma bravo Quello è il pachistiano Uno Non lo sa nessuna cosa Non c'era il presente Stavo sempre fuori Mussein Professore Mussein Non c'è Assoluto Problemi Hai ritardo No ciao l'amica Dice No moriva Hai ritardo Ferrario Presente Olivieri Oliveri Non Olivieri Te lo giuro C'è scritto Olivieri No perché lo sbagliano tutti Per ridere Anche a scuola Lo sbagliano Ok Ravenna Presente Infatti prof Volevo chiedere una cosa Io purtroppo Non ho potuto studiare Si fa ancora Volevo dirle Prima di iniziare la lezione Volevo chiedere subito Io purtroppo Purtroppo non ho potuto studiare Chi ti è morto Volevo mettere No no Martedì Martedì No martedì prossimo Se puoi interrogarmi Se puoi assegnarlo Oggi proprio Non posso Madonna mia Questo è veramente L'equivalente Di quando sali Sul treno italo Se lei è sprovvisto Di biglietto È tenuto ad andare Tempestivamente Dal train manager Scusi Scusi Lei è il train manager E volevo dire una cosa Io purtroppo Sono dovuto salire È sempre purtroppo Mi è successo Sono dovuto salire Molto in fretta Sul treno Purtroppo non ho biglietto Ma risulta che lei Si è salito a Taranto Siamo a Modena Per quale motivo si è accorto In questo momento Era perfettamente ragione Allora da Modena A Milano Dove devo arrivare Quanto sarebbe il biglietto Il biglietto con la tariffa intera Sono 847 euro I 27 centesimi Bene Direi che è stata una Cosa ci hai insegnato In quest'ora Per cui hai fatto anche l'appello Non lo so Cosa vi ho insegnato Com'è cambiata la scuola Forse Io sono uscito Arricchito Arricchito Siamo invecchiati Forse sono pronto Anche Se persino è giovane Tahir Il fatto che sei vecchio C'è una cosa che fa la scuola Non è farti invecchiare O sentire invecchiato Ma è farti crescere Guarda Carmelo avanzato Va bene amici Grazie a tutti Grazie mille Grazie Francesca Esposito Per essere stata con noi Grazie Tahir Grazie Carmelo Cecilia Alice Grazie Luca Ci risentiamo La prossima settimana Con una nuova puntata di Cashmere Ciao 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 Ciao